salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione oggi vi presento questi occhiali della now wave ditta completamente italiana e che servono appunto per chi ha problemi di affaticamento occhi davanti al computer si presentano in questa bellissima confezione magnetica come potete vedere questo è il modello square sono molto leggeri molto carini ecco e praticamente hanno questa funzione di evitare l'arrossamento degli occhi e anche la secchezza per chi sta molte ore davanti al pc e sono appunto l'anti luce blu ovvero le radiazioni che emettono i nostri smartphone tablet e computer hanno questo pratico panno come potete vedere per pulire le lenti e devo dire che da quando li uso mi trovo molto bene sono molto leggeri e ho trovato veramente beneficio hanno un piccolo manualetto di istruzioni all'interno e la loro pratica custodia per dove riporli costano veramente poco ecco vi lascio qua sotto in descrizione il link e vi do appuntamento alla prossima recensione un saluto ciao a tutti